oggi costruiamo una pendinote per tenere sempre in mente le cose da fare andiamo a vedere l'occorrente cartoncini colorati spago un bastoncino matita forbici incominciamo col prendere i nostri cartoncini colorati prendiamone uno lo pieghiamo a metà e lo tagliamo in modo da avere due perfette metà facciamo così anche con gli altri cartoncini selezionatene tre metà e procediamo ora facciamo dei semplici disegni su ognuno dei fogli con la matita successivamente con il pennarello nero ricalchiamo il disegno precedentemente creato prendiamo le forbici e tagliamo le forme in questo modo poi è la volta dello spago bastoncino e matita con la matita foriamo le nostre forme in un punto proprio come le immagini che state vedendo prendiamo lo spago facciamolo passare attraverso il foro appena creato e attacchiamolo al bastoncino in questo modo ora ripetiamo l'operazione con le altre figure se avete seguito le istruzioni ecco il risultato un fantastico appendinotes alla prossima